elenco dei personaggi di la locandiera e l'autore a chi legge di carlo goldoni questa è una registrazione libri vox tutte le registrazioni libri vox sono di dominio pubblico per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito libri vox elenco dei personaggi il cavaliere di ripafratta interpretato da filippo gioachin il marchese di forlipopoli interpretato da isairon il conte d'alba fiorita mirandolina locandiera ortensia comica interpretata da piccola mimì dejanira comica fabrizio cameriere di locanda interpretato da riccardo fasol servitore del cavaliere interpretato da river 80 servitore del conte interpretato da arcobaleno di arcobaleno montaggio di filippo gioachin effetti sonori di isairon la scena si rappresenta in firenze nella locanda di mirandolina l'autore a chi legge fra tutte le commedie da me sinora composte starei per dire essere questa la più morale la più utile la più istruttiva sembrerà ciò essere un paradosso a chi soltanto vorrà fermarsi a considerare il carattere della locandiera e dirà anzi non aver io dipinto altrove una donna più lusinghiera più pericolosa di questa ma chi rifletterà al carattere e agli avvenimenti del cavaliere troverà un esempio vivissimo della presunzione avvilita ed una scuola che insegna a fuggire i pericoli per non soccombere alle cadute mirandolina fa altrui vedere come si innamorano gli uomini principia a entrare in grazia del disprezzator delle donne secondandolo nel modo suo di pensare lodandolo in quelle cose che lo compiacciano ed eccitandolo perfino a biasimare le donne stesse superata con ciò l'avversione che aveva il cavaliere per essa principia a usargli delle attenzioni gli fa delle finezze studiate mostrandosi lontana dal volerlo obbligare la gratitudine lo visita lo serve in tavola gli parla con umiltà e con rispetto e in lui vedendo scemare la ruvidezza in lei s'aumenta l'ardire dice delle tronche parole avanza degli sguardi e senza che se ne avveda gli dà delle ferite mortali povero uomo conosce il pericolo e lo vorrebbe fuggire ma la femmina accorta con due lacrimette l'arresta e con uno svenimento l'atterra, lo precipita, l'avvilisce pare impossibile che in poche ore un uomo possa innamorarsi a tal segno un uomo, aggiungasi, disprezzatorte le donne che mai ha seco loro trattato ma appunto per questo più facilmente egli cade perché sprezzandole senza conoscerle e non sapendo quali siano le arti loro e dove fondino la speranza dei loro trionfi ha creduto che Bastar gli dovesse a difendersi la sua avversione ed ha offerto il petto ignudo ai colpi dell'inimico io medesimo diffidava quasi a principio di vederlo innamorato ragionevolmente sul fine della commedia eppure condotto dalla natura di passo in passo come nella commedia si vede mi è riuscito di darlo vinto alla fine dell'atto secondo io non sapeva quasi cosa mi fare nel terzo ma venuto mi in mente che sogliono coteste lusinghiere donne quando vedono nei loro lacci gli amanti aspramente trattarli ho voluto dare un esempio di questa barbara crudeltà di questo ingiurioso disprezzo con cui si burlano dei miserabili che hanno vinti per mettere in orrore la schiavitù che si procurano gli sciagurati e rendere odioso il carattere delle incantatrici sirene la scena dello stirare allora quando la locandiera si burla del cavaliere che languisce non muove gli animi a sdegno contro colei che dopo averlo innamorato l'insulta o bello specchio agli occhi della gioventù dio volesse che io medesimo cotale specchio avessi avuto per tempo che non avrei veduto ridere del mio pianto qualche barbara locandiera o di quante scene mi hanno provveduto le mie vicende medesime ma non è il luogo questo né di vantarmi delle mie follie né di pentirmi delle mie debolezze bastami che alcun mi sia grato della lezione che gli offerisco le donne che oneste sono giubileranno anch'esse che si smentiscano codeste simulatrici che disonorano il loro sesso ed esse femmine lusinghiere arrossiranno in guardarmi e non importa che mi dicano nell'incontrarmi che tu sia maledetto deggio avvisarvi lettor carissimo di una piccola mutazione che alla presente commedia ho fatto fabrizio il cameriere della locanda parlava in veneziano quando si recitò la prima volta l'ho fatto allora per comodo del personaggio solito a favellar da brighella ove l'ho convertito in toscano sendo disdicevole cosa introdurre senza necessità in una commedia un linguaggio straniero ciò ho voluto avvertire perché non so come la stamperà il Bettinelli può essere che essi serva di questo mio originale e Dio lo voglia perché almeno sarà ad over penneggiato ma lo scrupolo che si è fatto di stampare le cose mie come io le ho abbozzate lo farà trascurare anche questa comodità fine di l'autore a chi legge da la locandiera di Carlo Goldoni primo atto di la locandiera di Carlo Goldoni questa è una registrazione LibriVox tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox punto org la locandiera di Carlo Goldoni primo atto scena prima sala di locanda il marchese di Forlipopoli ed il conte d'alba fiorita fra voi e me vi è qualche differenza sullo locanda tanto vale il vostro denaro quanto vale il mio ma se la locandiera usa me delle distinzioni mi si convengono più che a voi per qual ragione io sono il marchese di Forlipopoli ed io sono il conte d'alba fiorita sì conte conte ha comprata io ho comprato la conte quando voi avete venduto il marchesato oh basta sono chi sono e mi si deve portare rispetto chi ve lo perde il rispetto voi siete quello che con troppa libertà parlando io sono in questa locanda perché amo la locandiera tutti lo sanno e tutti devono rispettare una giovane che piace a me oh questa è bella voi mi vorreste impedire ch'io amassi mirandolina perché credete ch'io sia in Firenze perché credete ch'io sia in questa locanda oh bene voi non farete niente io no e voi sì io sì e voi no io sono chi sono mirandolina ha bisogno della mia protezione mirandolina ha bisogno di denari e non di protezione denari non ne mancano io spendo uno zecchino il giorno signor marchese e la regalo continuamente ed io quel che fo non lo dico voi non lo dite ma già si sa non si sa tutto sì caro signor marchese si sa i camerieri lo dicono tre peoletti il giorno a proposito di camerieri vi è quel cameriere che ha nome fabrizio mi piace poco parmi che la locandiera lo guardi assai di buon occhio può essere che lo voglia sposare non sarebbe cosa mal fatta sono sei mesi che è morto il dì le padre sola una giovane alla testa di una locanda si troverà imbrogliata per me se si marità le ho permesso trecento scudi se si meriterà io sono il suo protettore e farò io e so io quello che farò venite qui facciamola da buoni amici diamole trecento scudi per uno quel ch'io faccio lo faccio segretamente e non me ne vanto son chi sono chiama chiedila da sé spientato povero e superbo scena seconda fabrizio edetti al marchese mi comandi signore signore chi ti ha segnato la creanza la perdoni a fabrizio ditemi come sta la padroncina sta bene illustrissimo è alzata dal letto illustrissimo sì asino perché illustrissimo signore che cos'è questo illustrissimo è il titolo che ho dato anche a quell'altro cavaliere tra lui e me vi è qualche differenza a fabrizio sentite piano al conte dice la verità ci è differenza me ne accorgo nei conti di alla padrona che venga da me che le ho da parlare eccellenza sì ho fallato questa volta va bene sono tre mesi che lo sai ma sei un impertinente come comanda eccellenza vuoi vedere la differenza che passa fra il marchese e me che vorreste dire tieni ti dono un ozzicchino fa che anche egli ti doni un altro al conte grazie illustrissimo al marchese eccellenza non getto il mio come i pazzi vattene al conte illustrissimo signore il cielo la benedica eccellenza rifinito fuor del suo paese non vogliono esser titoli per farsi stimare vogliono esser quattrini scena terza il marchese ed il conte voi credete di soverchiarmi con i regali ma non farete niente il mio grado val più di tutte le vostre monete io non apprezzò quel che vale ma quello che si può spendere pendete pure rotta di collo mirandolina non fa stima di voi con tutta la vostra gran nobiltà credi voi di essere da lei stimato vogliono esser denari che denari vuole esser protezione esser buono in un incontro di far un piacere sì esser buono in un incontro di prestar cento doppie farsi portare rispetto bisogna quando non mancano denari tutti rispettano voi non sapete quel che vi dite l'intendo meglio di voi scena quarta il cavaliere di ripafratta dalla sua camera edetti amici che cos'è questo rumore vi è qualche dissensione fra di voi altri si disputava sopra un bellissimo punto il conte disputa meco sul merito della nobiltà io non levo il merito alla nobiltà ma sostengo che per cavarsi dei capricci vogliono esser denari veramente marchese mio orsù parliamo d'altro perché siete venuti a simil contesa per un motivo il più ridicolo della terra sì bravo il conte mette tutto il ridicolo il signor marchese ama la nostra locandiera io l'amo ancora più di lui egli pretende corrispondenza come un tributo alla sua nobiltà io la spero come una ricompensa alla mia attenzione pare a voi che la questione non sia ridicola bisogna sapere con quanto impegno io la proteggo al cavaliere egli la protegge ed io spendo in verità non si può contendere per ragione alcuna che io meriti meno una donna vi altera vi scompone una donna che cosa mai mi convien sentire una donna io certamente non vi è pericolo che per le donne abbia che dir con nessuno non le ho mai amate non le ho mai stimate e ho sempre creduto che sia la donna per l'uomo una infermità insopportabile in quanto a questo poi mirandolina ha un merito straordinario sin qua il signor ha ragione la nostra padroncina della ricanda è veramente amabile quando l'amo io potete credere che in lei vi sia qualche cosa di grande in verità vi fate ridere che mai può avere di così stravagante costei che non sia comune all'altra donne ha un tratto nobile che è in catena è bella parla bene veste con pulizia e di un ottimo gusto tutte cose che non vagliano un fico sono tre giorni che io sono in questa locanda e non mi ha fatto specie veruna guardatela e forse ci troverete da buono è pazzia l'ho veduta benissimo è una donna come l'altre non è come l'altre ha qualche cosa di più io che ho praticato le prime dame non ho trovato una donna che sappia unire come questa la gentilezza e il decoro cospetto di bacco io son sempre stato solito trattar donne ne conosco li difetti ed il loro debole pure con costei nonostante il mio lungo corteggio e le tante spese per essa fatte non ho potuto un ditto arte arte sopraffina poveri gonzi lo credete eh a me non la farebbe donne alla larga tutte quante elle sono non siete mai stato innamorato mai né mai lo sarò hanno fatto il diavolo per darmi moglie né mai l'ho voluta ma siete unico della vostra casa non volete pensare alla successione ci ho pensato più volte ma quando considero che per aver figliuoli mi converrebbe soffrire una donna mi passa subito la volontà che volete voi fare delle vostre ricchezze godermi quel poco che ho con i miei amici bravo cavaliere bravo ci goderemo e alla donne non volete dar nulla niente affatto a me non ne mangiano sicuramente ecco la nostra padrona guardatela se non è adorabile oh la bella cosa per me stimo più di lei quattro volte un bravo cane da caccia se non la stimate voi la stimo io ve la lascio se fosse più bella di venere scena quinta mirandolina e detti m'inchino a questi cavalieri chi mi domanda di lor signori io vi domando ma non qui dove mi vuole eccellenza nella mia camera nella sua camera se ha bisogno di qualche cosa verrà il cameriere a servirla al cavaliere che dite di quel contegno al marchese quello che voi chiamate contegno io lo chiamerei temerietà impertinenza cara mirandolina io vi parlerò in pubblico non vi darò l'incomodo di venire nella mia camera osservate questi orecchini vi piacciono belli sono diamanti sapete oh li conosco me ne intendo anch'io dei diamanti e sono al vostro comando piano al conte caro amico voi li buttate via perché mi vuole ella donare quegli orecchini veramente sarebbe un gran regalo ella ne ha dei più belli al doppio questi sono legati alla moda vi prego riceverli per amore mio da sé oh che pazzo no davvero signore se non li prendete mi disgustate non so che dire mi preme tenermi amici gli avventori della mia locanda per non disgustare il signor conte li prenderò da sé oh che forca al cavaliere che dite di quella prontezza di spirito al conte bella prontezza ve li mangia e non vi ringrazia nemmeno veramente signor conte vi siete acquistato gran merito regalare una donna in pubblico per vanità mirandolina vi ho da parlare a quattro occhi fra voi e me son cavaliere da sé che arzura non gliene cascano se altro non mi comandano io me nanderò con disprezzo ehi padrone la biancheria che mi avete dato non mi gusta se non ne avete di meglio mi provvederò signore ve ne sarà di meglio sarà servita ma mi pare che la potrebbe chiedere con un poco di gentilezza dove spendo il mio denaro non ho bisogno di far complimenti a mirandolina compatitelo egli è il nemico capitale delle donne eh che non ho bisogno d'essere da lei compatito povere donne che cosa le hanno fatto perché così crudele con noi signor cavaliere basta così con me non vi prendete maggior confidenza cambiatemi la biancheria la manderò a prender pel servitore amici vi sono schiavo parte scena sesta il marchese il conte e mirandolina che uomo selvatico non ho veduto il compagno cara mirandolina tutti non conoscono il vostro merito in verità son così stomacata dal suo mal procedere che ora lo licenzio addirittura sì e se non vuole andarsene ditelo a me che lo farò partire immediatamente fate pur uso della mia protezione e per il denaro che aveste a perdere io s'aprirò e pagherò tutto piano a mirandolina sentite mandate via anche il marchese che pagherò io grazie signori miei grazie ho tanto spirito che basta per dire a un forestiere che io non lo voglio e circa l'utile la mia locanda non ha mai camere in ozio scena settima fabrizio e detti al conte illustrissimo c'è uno che la domanda sai chi sia credo che gli sia un legatore di gioie piano a mirandolina mirandolina giudizio qui non istate bene e parte oh sì mi ha da mostrare un gioiello mirandolina quegli orecchini voglio che li accompagniamo eh no signor conte voi meritate molto ed io i denari non li stimo niente vado a vedere questo gioiello addio mirandolina signor marchese la riverisco parte scena ottava il marchese e mirandolina da sé maledetto conte con questi suoi denari mi ammazza in verità il signor conte si incomoda troppo costoro hanno quattro soldi e li spendono per vanità per albagia io li conosco so il vivere del mondo eh il vivere del mondo lo so ancora io pensano che le donne della vostra sorta si vincano con i regali i regali non fanno male allo stomaco io crederei di farvi un'ingiuria cercando di obbligarvi con i donativi oh certamente il signor marchese non mi ha ingiuriata o mai e tali ingiurie non ve le farò lo credo sicurissimamente ma dove posso comandatemi bisognerebbe che io sapessi in che cosa può vostra eccellenza in tutto provatemi ma vermi grazia in che perbacco avete un merito che sorprende troppe grazie eccellenza ah direi quasi uno sproposito ma le direi quasi la mia eccellenza perché signore qualche volta mi auguro di essere nello stato del conte per ragioni forse dei suoi denari eh che denari non li stimo un fico se fossi un conte ridicolo come lui che cosa farebbe cospetto del diavolo vi sposerei parte scena nona mirandolina sola uh che mai ha detto l'eccellentissimo signor marchese Arzura mi sposerebbe eppure se mi volesse sposare vi sarebbe una piccola difficoltà io non lo vorrei mi piace l'arrosto e del fumo non so che farne se avessi sposati tutti quelli che hanno detto volermi oh avrei pure tanti mariti quanti arrivano a questa locanda tutti di me si innamorano tutti mi fanno i cascamorti e tanti e tanti mi esibiscono di sposarmi addirittura e questo signor cavaliere rustico come un orso mi tratta si bruscamente questi è il primo forestiere capitato alla mia locanda il quale non abbia avuto piacere di trattare con me non dico che tutti in un salto sappiano innamorare ma disprezzarmi così è una cosa che mi muove la bile terribilmente è nemico delle donne non le può vedere povero pazzo non avrà ancora trovato quella che sappia fare ma la troverà la troverà e chissà che non l'abbia trovata con questi per l'appunto mi ci metto di picca quei che mi corrono dietro presto presto mi annoiano la nobiltà non fa per me la ricchezza la stimo e non la stimo tutto il mio piacere consiste in vedermi servita vagheggiata adorata questa è la mia debolezza e questa è la debolezza di quasi tutte le donne a maritarmi non ci penso nemmeno non ho bisogno di nessuno vivo onestamente e godo la mia libertà tratto con tutti ma non mi innamoro mai di nessuno voglio burlarmi di tante caricature diamanti spasimati e voglio usare tutta l'arte per vincere abbattere conquassare quei cuori barbari e duri che sono nemici di noi che siamo la miglior cosa che abbia prodotto al mondo la bella madre natura scena diecima fabrizio e detta ehi padrona che cosa c'è quel forestiere che è alloggiato nella camera di mezzo grida della biancheria dice che è ordinaria e che non la vuole lo so lo so lo ha detto anche a me e voglio servire benissimo venitemi dunque a metter fuori la roba che gliela possa portare andate andate gliela porterò io voi gliela volete portare sì io bisogna che vi prema molto questo forestiere tutti mi premono badate a voi da sé già me ne avvedo non faremo niente ella mi lusinga ma non faremo niente da sé povero sciocco ha delle pretensioni voglio tenerlo in speranza perché mi serva con fedeltà si è sempre accostumato che i forestieri li serva io voi con i forestieri siete un poco troppo ruvido e voi siete un poco troppo gentile so quel che fa non ho bisogno di correttori bene bene provvedetevi di cameriere perché signor fabrizio è disgustato di me vi ricordate voi che cosa ha detto a noi due vostro padre prima che gli morisse sì quando mi vorrò maritare mi ricorderò di quel che ha detto mio padre ma io sono delicato di pelle certe cose non le posso soffrire ma che credi tu che io mi sia una frasca una civetta una pazza mi meraviglio di te che voglio fare io dei forestieri che vanno e vengono se li tratto bene lo fo per il mio interesse per tenere in credito la mia locanda dei regali non ne ho bisogno per fare all'amore uno mi basta e questo non mi manca e so chi merita e so quello che mi conviene e quando vorrò maritarmi mi ricorderò di mio padre e chi mi avrà servito bene non potrà lagnarsi di me son grata conosco il merito ma io non sono conosciuta basta fabrizio intendetemi se potete parte chi può intenderla è bravo davvero ora pare che la mi voglia ora che la non mi voglia dice che non è una frasca ma vuol far a suo modo non so che dire staremo a vedere ella mi piace le voglio bene accomoderei con essa i miei interessi per tutto il tempo di vita mia bisognerà chiudere un occhio e lasciar correre qualche cosa finalmente i forestieri vanno e vengono io resto sempre il meglio sarà sempre per me parte scena undicesima camera del cavaliere il cavaliere ed un servitore illustrissimo hanno portato questa lettera portami la cioccolata il servitore parte il cavaliere apre la lettera siena chi scrive orazio taccagni amico carissimo la tenera amicizia che a voi mi lega mi rende sollecito ad avvisarvi essere necessario il vostro ritorno in patria è morto il conte man povero cavaliere me ne dispiace ha lasciato la sua unica figlia nubile erede di centocinquantamila scudi tutti gli amici vostri vorrebbero che toccasse a voi una tal fortuna e vanno maneggiando non s'affatichino per me che non voglio saper nulla lo sanno pure che io non voglio donne per i piedi e questo mio caro amico che lo sa più d'ogni altro mi secca peggio di tutti straccia la lettera che importa a me di centocinquantamila scudi finché son solo mi basta meno se fossi accompagnato non mi basterebbe assai più moglie a me piuttosto una febbre quartana scena dodicesima il marchese è detto amico vi contentate che io venga a stare un poco con voi mi fate onore almeno fra me e voi possiamo trattarci con confidenza ma quel somaro del conte non è degno di stare in conversazione con noi caro marchese compatitemi rispettate gli altri se volete essere rispettato pure voi sapete il mio naturale io fo le cortesie a tutti ma colui non lo posso soffrire non lo potete soffrire perché vi è rivale in amore vergogna un cavaliere della vostra sorta innamorarsi d'una locandiera un uomo savio come siete voi correr dietro a una donna cavaliere mio costei mi ha stregato oh pazzie debolezze che stregamenti che vuol dire che le donne non mi stregheranno le loro fattuccherie consistono nei loro vezzi nelle loro lusinghe e chi ne sta lontano come faccio io non c'è pericolo che si lascia ammaliare basta ci penso e non ci penso quel che mi dà fastidio e che mi inquieta è il mio fattor di campagna scena tredicesima il servitore con una cioccolata e detti oh mi dispiace al servitore fanne subito un'altra in casa per oggi non ce n'è altra illustrissimo bisogna che ne provveda al marchese se vi degnate di questa marchese prende la cioccolata e si mette a berla senza complimenti seguitando poi a discorrere e bere questo mio fattore come io vi diceva beve da sé ed io resterò senza mi aveva promesso mandarmi con l'ordinario beve venti zecchini beve da sé ora viene con una seconda stoccata e non me li ha mandati beve li manderà un'altra volta il punto sta il punto sta finisce di bere tenete dà la chicchera al servitore il punto sta che sono in un grande impegno e non so come fare otto giorni più otto giorni meno ma voi che siete cavaliere sapete quel che vuol dire il mantener la parola sono in impegno e corpo di bacco darei della pugna in cielo mi dispiace di vedervi scontento da sé se sapessi come uscirne con reputazione voi avreste difficoltà per otto giorni di farmi il piacere caro marchese se potessi vi servirei di cuore se li avessi ve li avrei esibiti addirittura ne aspetto e non ne ho non mi darete ad intendere d'essere senza denari osservate ecco tutta la mia ricchezza non arrivano a due zecchini mostra uno zecchino e varie monete quello è uno zecchino d'oro sì l'ultimo non ne ho più prestatemi quello che vedrò intanto ma io poi di che avete paura ve lo renderò non so che dire servitevi gli dà lo zecchino ho un affare di premura amico obbligato per ora ci rivedemo a pranzo prende lo zecchino e parte scena quattordicesima cavaliere solo bravo il signor marchese mi voleva frecciare venti zecchini e poi si è contentato di uno finalmente uno zecchino non mi preme di perderlo e se non me lo rende non mi verrà più a seccare mi dispiace più che mi ha bevuto la mia cioccolata che indiscretezza e poi son chi sono son cavaliere o garbatissimo cavaliere scena quindicesima mirandolina con la biancheria e detto mirandolina entrando con qualche soggezione permette illustrissimo con asprezza che cosa volete ecco qui della biancheria migliore s'avanza un poco bene mettetela lì accenna il tavolino la supplico almeno degnarsi vedere se è di suo genio che roba è le lenzuola son di renza s'avanza ancor più renza si signore di dieci pauli al braccio osservi non pretendevo tanto bastava mi qualche cosa meglio di quel che mi avete dato questa biancheria l'ho fatta per personaggi di merito per quelli che la sanno conoscere e in verità illustrissimo la do per esser lei ad un altro non la darei per esser lei solito complimento osservi il servizio di tavola oh queste tele di fiandra quando si lavano perdono assai non vi è bisogno che le insudiciate per me per un cavaliere della sua qualità non guardo a queste piccole cose e di queste salviette ne ho parecchie e le serberò per vos signoria illustrissima da sé non si può però negare che costè non sia una donna obbligante da sé veramente ha una faccia burbera da non piacergli le donne date la mia biancheria al mio cameriere o ponetela lì in qualche luogo non vi è bisogno che v'incomodiate per questo oh io non m'incomodo mai quando servo cavaliere di sì alto merito bene bene non occorra altro da sé costai vorrebbe adularmi donne tutte così la metterò nell'arcova con serietà sì dove volete da sé oh piede il duro ho paura di non fare niente va a riporre la biancheria da sé i gonzi sentono queste belle parole credono a chi le dice e cascano ritornando senza la biancheria a pranzo che cosa comanda mangerò quello che vi sarà vorrei pur sapere il suo genio se le piace una cosa più dell'altra lo dica con libertà se vorrò qualche cosa lo dirò al cameriere ma in queste cose gli uomini non hanno l'attenzione e la pazienza che abbiamo noi donne se le piacesse qualche intingoletto qualche salsetta favorisca di dirlo a me vi ringrazio ma neanche per questo verso vi riuscirà di far con me quello che avete fatto col conte e col marchese che dice della debolezza di quei due cavalieri vengono alla locanda per alloggiare e pretendono poi di voler far all'amore con la locandiera abbiamo altro in testa noi che dar retta alle loro charle cerchiamo di fare il nostro interesse se diamo loro delle buone parole lo facciamo per tenerli a bottega e poi io principalmente quando vedo che si lusingano rido come una pazza brava mi piace la vostra sincerità oh non ho altro di buono che la sincerità ma però con chi vi fa la corte sapete fingere io? fingere? guardimi il cielo domandi un poco a quei due signori che fanno gli spasimati per me se ho mai dato loro un segno d'affetto se ho mai scherzato con loro in maniera che si potessero lusingare con fondamento non li strapazzo perché il mio interesse non lo vuole ma poco meno questi uomini effemminati non li posso vedere e siccome abborrisco anche le donne che corrono dietro gli uomini vede io non sono una ragazza ho qualche annetto non sono bella ma ho avuto delle buone occasioni eppure non ho mai voluto maritarmi perché stimo infinitamente la mia libertà oh sì la libertà è un gran tesoro e tanti la perdono scioccamente so io ben quel che faccio alla larga a moglie vostra signoria illustrissima il cielo me ne liberi non voglio donne bravissimo si conservi sempre così le donne signore basta a me non tocca dirne male voi siete peraltro la prima donna che io senta parlare così le dirò noi altre locandiere vediamo e sentiamo delle cose assai e in verità compatisco quegli uomini che hanno paura del nostro sesso da sé è curiosa costei con permissione di vostra signoria illustrissima finge voler partire avete premura di partire non vorrei esserle importuna no mi fate piacere mi divertite vede signore così fa con gli altri mi trattengo qualche momento sono piuttosto allegra dico delle barzellette per divertirli ed essi subito credono se la mi intende mi fanno i cascamorti questo accade perché avete buona maniera con una riverenza troppa bontà illustrissimo ed essi si innamorano guardi che debolezza innamorarsi subito di una donna questa io non l'ho mai potuta capire bella fortezza bella virilità debolezze miserie umane questo è il vero pensare degli uomini signor cavaliere mi porga la mano perché volete che io vi porga la mano favorisca si degni osservi son pulita ecco la mano questa è la prima volta che ho l'onore d'aver per la mano un uomo che pensa veramente da uomo ritira la mano via basta così ecco se io avessi preso per la mano uno di quei due signori guaiati avrebbe tosto creduto che io spasimassi per lui sarebbe andato in deliquio non darei loro una semplice libertà per tutto l'oro del mondo non sanno vivere oh benedetta in conversare alla libera senza attacchi senza malizia senza tonte ridicole scioccherie illustrissimo perdoni la mia impertinenza dove posso servirla mi comandi con autorità e avrò per lei quell'attenzione che non ho mai avuto per alcuna persona di questo mondo per quale motivo avete tanta parzialità per me perché oltre il suo merito oltre la sua condizione sono almeno sicura che con lei posso trattare con libertà senza sospetto che voglia fare cattivo uso delle mie attenzioni e che mi tenga in qualità di serva senza attormentarmi con pretensioni ridicole con caricature affettate dà e sè che diavolo ha costei di stravagante ch'io non capisco dà e sè il satiro si andrà poco a poco addomesticando orsù se avete da badare alle cose vostre non restate per me si signore vado ad attendere alle mie faccende di casa queste sono i miei amori i miei passatempi se comanderà qualche cosa manderò il cameriere bene se qualche volta verrete anche voi vi vedrò volentieri io veramente non vado mai nelle camere dei forestieri ma da lei ci verrò qualche volta da me perché perché illustrissimo signore ella mi piace assaissimo vi piaccio io mi piace perché non è effemminato e perché non è di quelli che si innamorano da sè mi caschi il naso se avanti domani non l'innamoro scena sedicesima cavaliere solo eh so io quel che fo con le donne alla larga costei sarebbe una di quelle che potrebbero farmi cascare più delle altre quella verità quella scioltezza di dire è cosa poco comune a un non so che di straordinario ma non per questo mi lascerei innamorare per un poco di divertimento mi farei piuttosto con questa che con un'altra ma per fare all'amore per perdere la libertà non vi è pericolo pazzi pazzi quelli che si innamorano delle donne parte scena diciassettesima altra camera di locanda ortensia deianira fabrizio che restino servite qui illustrissime osservino quest'altra camera quella per dormire e questa per mangiare per ricevere per servirsene come comandano va bene va bene siete voi padroni o cameriere cameriere ai comandi di vossignoria illustrissima piano a ortensia ridendo ci dà delle illustrissime bisogna secondare il lazzo cameriere illustrissima dita al padrone che venga qui voglio parlar con lui per il trattamento verrà la padrona la servo subito da sé chi diamine saranno queste due signore così sole all'aria all'abito paiono dame scena diciottesima deianira e ortensia ci dà delle illustrissime ci ha creduto due dame bene così ci tratterà meglio ma ci farà pagare di più eh circa i conti avrà da fare con me sono degli anni assai che cammino il mondo non vorrei che con questi titoli entrassimo in qualche impegno cara amica siete di poco spirito due commedianti avvezze a far sulla scena da contesse da marchese da principesse avranno difficoltà a sostenere un carattere sopra di una locanda verranno i nostri compagni e subito ci sbianchiranno per oggi non possono arrivare a firenze da pisa a qui in navicello ci vogliono almeno tre giorni guardate che bestialità venire in navicello per mancanza di lugani è assai che siamo venute noi in calesse è stata buona quella recita di più che abbiamo fatto sì ma se non istavo io alla porta non si faceva niente scena diciannovesima fabrizio e dette la padrona or ora sarà a servirle bene ed io le supplico a comandarmi ho servito altre dame mi darò l'onor di servir con tutta l'attenzione anche le signorie loro illustrissime occorrendo mi varrò di voi da sé hortensia queste parti le fa benissimo intanto le supplico illustrissime signore favorirmi il loro riverito nome per la consegna tira fuori un calamaio ed un libriccino ora viene il buono perché ho da dare il mio nome noi altri locandieri siamo obbligati a dare il nome il casato la patria e la condizione di tutti i passeggeri che alloggiano alla nostra locanda e se non lo facessimo meschini noi amica i titoli sono finiti molti daranno anche il nome finto in quanto a questo poi noi altre scriviamo il nome che ci dettano e non cerchiamo di più scrivete la baronessa hortensia del foggio palermitana scrivendo siciliana sangue caldo a deianira ella illustrissima ed io non so che mi dire via contessa deianira date il vostro nome a deianira vi supplico a fabrizio non l'avete sentito scrivendo l'illustrissima signora contessa deianira il cognome a fabrizio anche il cognome a fabrizio sì dal sole romana non occorraltro perdonino l'incomodo ora verrà la padrona da sé l'ho io detto che erano due dame spero che farò de buoni negozi mance non ne mancheranno parte si burlano vicendevolmente serva umilissima della baronessa contessa a voi minchino qual fortuna mi offre la felicissima congiuntura di rassegnarvi il mio profondo rispetto dalla fontana del vostro cuore scaturir non possono che torrenti di grazie scena ventesima mirandolina e dette ad hortensia con caricatura madama voi mi adulate fa lo stesso contessa al vostro merito ci converrebbe assai più da sé in disparte oh che dame cerimoniose da sé oh quanto mi vien da ridere piano deianira zitto è qui la padrona minchino a queste dame buongiorno quella giovane a mirandolina signora padrona di riverisco ehi facenno a deianira che si sostenga ad hortensia permetta che io le baci la mano siete obbligante le dà la mano anch'ella illustrissima chiede la mano a deianira e non importa via gradite le finezze di questa giovane datele la mano la supplico tenete le dà la mano si volta e ride ride illustrissima di che che cara contessa ride ancora di me ho detto uno sproposito che l'ha fatta ridere da sé io giocherei che non son dame se fossero dame non sarebbero sole a mirandolina circa il trattamento converrà poi discorrere ma sono sole non hanno cavalieri non hanno servitori non hanno nessuno il barone mio marito perché ride signora via perché ridete rido del barone di vostro marito sì è un cavaliere giocoso dice sempre delle barzellette verrà quanto prima col conte orazio marito della contessina deianira fa forza per trattenersi dal ridere a deianira la fa ridere anche il signor conte ma via contessina tenetevi un poco nel vostro decoro signore mie favoriscano in grazia siamo sole nessuno ci sente questa contea questa baronia sarebbe mai che cosa vorreste voi dire metteresse in dubbio la nostra nobiltà perdoni illustrissima non si riscaldi perché farà ridere la signora contessa e via che serve contessa 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 a deianira io so che cosa voleva dire illustrissima se l'indovinate vi stimo assai volevate dire che serve che fingiamo d'essere due dame se siamo due pedine eh non è vero a mirandolina e che sì che ci conoscete che brava commediante non è buona da sostenere un carattere fuori di scena io non so fingere brava signora baronessa mi piace il di lei spirito lodo la sua franchezza qualche volta mi prendo un poco di spasso ed io amo infinitamente le persone di spirito servitevi pure nella mia locanda che siete padrone ma vi prego bene se mi capitassero persone di rango cedermi questo appartamento che io vi darò dei camerini assai comodi sì volentieri ma io quando spendo il mio denaro intendo voler essere servita come una dama e in questo appartamento ci sono e non me ne andrò via signora baronessa sia buona oh ecco un cavaliere che è alloggiato in questa locanda quando vede donne sempre si caccia avanti è ricco io non so i fatti suoi scena ventunesima il marchese e dette è permesso si può entrare per me padrone servo di lor signore serva umilissima la riverisco divotamente ammirandolina sono forestiere eccellenza sì sono venute ad onorare la mia locanda da sé è un'eccellenza capperi da sé già ortenzia lo vorrà per sé a mirandolina e chi sono queste signore questa è la baronessa ortenzia del poggio e questa la contessa de janira dal sole oh compitissime dame ella chi è signore io sono il marchese di forlipopoli da sé la locandiera vuol seguitare a far la commedia godo aver l'onore di conoscere un cavaliere così compito se vi potessi servire comandatemi ho piacere che siate venute ad alloggiare in questa locanda troverete una padrona di garbo questo cavaliere è pieno di bontà mi onora della sua protezione sì certamente io la proteggo e proteggo tutti quelli che vengono nella sua locanda e se vi occorre nulla comandate occorrendo mi privarrò delle sue finezze anche voi signora contessa fate capitale di me potrò ben chiamarmi felice se avrò l'alto onore di essere annoverata nel ruore delle sue milissime serve ad ortenzia ha detto un concetto da commedia a mirandolina il titolo di contessa l'ha posta in soggezione il marchese tira fuori di tasca un bel fazzoletto di seta lo spiega e finge volersi asciugar la fronte un gran fazzoletto signor marchese a mirandolina ah che ne dite è bello sono di buon gusto io certamente di ottimo gusto ad ortenzia ne avete più veduti di così belli è superbo non ho veduto il compagno da sé se me lo donasse lo prenderei ad e janira questo viene da londra è bello mi piace assai son di buon gusto io da sé e non dice a vostri comandi m'impegno che il conte non sa spendere getta via il denaro e non compra mai una galanteria di buon gusto il signor marchese conosce distingue sa vede intende piega il fazzoletto con attenzione bisogna piegarlo bene a ciò non si guasti questa sorta di roba bisogna custodirla con attenzione tenete lo presenta mirandolina vuole che io lo faccia mettere nella sua camera no mettetelo nella vostra perché nella mia perché ve lo dono oh eccellenza perdoni tant'è ve lo dono ma io non voglio non mi fate andare in collera oh in quanto a questo poi il signor marchese lo sa io non voglio disgustar nessuno a ciò non vado in collera lo prenderò ad ortenzia oh che bellazzo ad e janira e poi dicono delle commedianti ad ortenzia ah che dite un fazzoletto di quella sorta l'ho donato alla mia padrona di casa è un cavaliere generoso sempre così da sé questo è il primo regalo che mi ha fatto e non so come abbia avuto quel fazzoletto signor marchese se ne trovano di quei fazzoletti in firenze avrei volontà d'averne uno compagno compagno di questo sarà difficile ma vedremo da sé brava signora contessina signor marchese voi che siete pratico della città fatemi il piacere di mandarmi un bravo calzolaro perché ho bisogno di scarpe sì vi manderò il mio da sé tutte alla vita ma non ce n'è uno per la rabbia caro signor marchese favorirà tenerci un poco di compagnia favorirà pranzo con noi sì volentieri ehi mirandolina non abbiate gelosia son vostro già lo sapete al marchese si accomodi pure ho piacere che si diverta voi sarete la nostra conversazione non conosciamo nessuno non abbiamo altri che voi oh care mie damine vi servirò di cuore scena ventiduesima il conte e detti mirandolina io cercavo voi son qui con queste dame dame minchina umulmente serva di vota piano ad eianira questo è un guasco più badia di quell'altro piano ad ortensia ma io non sono buona per miccheggiare piano a mirandolina ehi mostrate al conte il fazzoletto osservi signor conte il bel regalo che mi ha fatto il signor marchese mostra il fazzoletto al conte oh me ne rallegrò bravo signor marchese eh niente niente bagatelle riponetelo via non voglio che lo diciate quel che fo non sa da sapere da sé non sa da sapere e me lo fa mostrare la superbia contrasta con la povertà a mirandolina con licenza di queste dame vorrei dirvi una parola si accomodi con libertà a mirandolina quel fazzoletto in tasca lo manderete male eh lo riporrò nella bambagia perché non si ammacchi a mirandolina osservate questo piccolo gioello di diamanti bello assai e compagno degli orecchini che vi ho donato ortensia e janira osservano e parlano piano fra loro certo è compagno ma è ancora più bello da sé sia maledetto il conte i suoi diamanti i suoi denari e il suo diavolo che se lo porti a mirandolina ora perché abbiate il fornimento compagno ecco ch'io vi dono il gioiello non lo prendo assolutamente non mi farete questa male creanza oh delle male creanze non le faccio mai per non disgustarla lo prenderò ortensia e janira parlano come sopra osservando la generosità del conte ah che ne dice signor marchese questo gioiello non è galante nel suo genere il fazzoletto è più di buon gusto sì ma da genere a genere vi è una bella distanza bella cosa vantarsi in pubblico di una grande spesa sì sì voi fate i vostri regali in segreto da sé posso ben dire con verità questa volta che fra i due litiganti il terzo gode e così dammine mie sarò a pranzo con voi al conte quest'altro signore chi è sono il conte d'alba ferita per obberdirvi capperi è una famiglia illustre io la conosco anch'ella s'accosta al conte adejanira sono a vostri comandi al conte è qui alloggiato sì signora al conte si trattiene molto credo di sì signore mie sarete stanche di stare in piedi volete che io vi serva nella vostra camera obbligatissima con disprezzo di che paese è signor conte napolitano oh siamo mezzi patrioti io sono palermitana io son romana ma sono stata a napoli e appunto per un mio interesse desiderava parlare con un cavaliere napolitano vi servirò signore siete sole non avete uomini ci sono io signore e non hanno bisogno di voi siamo sole signor conte poi vedremo il perché mirandolina signore fate preparare nella mia camera per tre ad ortenzia ed ejanira vi degnerete di favorirmi riceveremo le vostre finezze ma io sono stato invitato da queste dame esse sono padrono e di servirsi come comandano ma alla mia piccola tavola in più di tre non ci si sta vorrei vedere anche questa andiamo andiamo signor conte il signor marchese ci favorirà un'altra volta parte signor marchese se trova il fazzoletto mi raccomando parte da sé che bel pazzo cara mirandolina avrete voi dispiacere che io serve queste due dame niente affatto signore lo faccio per voi lo faccio per accrescer utile e avventuri alla vostra locanda per altro io sono vostro e vostro il mio cuore e vostre sono le mie ricchezze della quale disponete liberamente che io vi faccio padrona parte scena ventitresima mirandolina sola con tutte le sue ricchezze con tutti gli suoi regali non arriverà mai ad innamorarmi e molto meno lo farà il marchese con la sua ridicola protezione se dovessi attaccarmi ad uno di questi due certamente lo farei con quello che spende più ma non mi preme né dell'uno né dell'altro sono in impegno ad innamorare il cavaliere di ripafratta e non darei un tal piacere per un gioiello il doppio più grande di questo mi proverò non so se avrò l'abilità che hanno quelle due brave comiche ma mi proverò il conte e il marchese frattanto con quelle si vanno trattenendo mi lasceranno in pace e potrò a mio bellaggio trattar col cavaliere possibile che io non ceda chi è quello che possa resistere a una donna quando le dà tempo di poter far uso dell'arte sua chi fugge non può temer di essere vinto ma chi si ferma, chi ascolta e se ne compiace deve o presto tardi a suo dispetto cadere atto secondo atto di la locandiera di carlo goldoni questa è una registrazione librivox tutte le registrazioni librivox sono di dominio pubblico per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito librivox.org la locandiera di carlo goldoni secondo atto scena prima camera del cavaliere con tavola apparecchiata per il pranzo e sedie il cavaliere ed il suo servitore poi fabrizio il cavaliere passeggia con un libro fabrizio mette la zuppa in tavola fabrizio al servitore dite al vostro padrone se vuole restare servito che la zuppa è in tavola glielo potete dire anche voi è tanto stravagante che non gli parlo niente volentieri eppure non è cattivo non può veder le donne peraltro con gli uomini è dolcissimo da sé non può veder le donne povero sciocco non conosce il buono parte illustrissimo se comoda è in tavola il cavaliere mette giù il libro e va a sedere a tavola al servitore mangiando questa mattina parmi che si pranzi prima del solito il servitore dietro la sedia del cavaliere col tondo sotto il braccio questa camera è stata servita prima di tutte il signor conte d'albafiorita strepitava che voleva essere servito il primo ma la padrona ha voluto che si desse in tavola prima a vostra signoria illustrissima sono obbligato a costei per l'attenzione che mi dimostra è una assai compita donna illustrissimo in tanto mondo che ho veduto non ho trovato una locandiera più garbata di questa voltandosi un poco indietro ti piace eh se non fosse per far torto al mio padrone vorrei venire a stare con mirandolina per cameriere povero sciocco che cosa vorresti che la facesse di te gli da il tondo ed egli lo muta una donna di questa sorta la vorrei servir come un cagnolino va per un piatto perbacco costè incanta tutti sarebbe da ridere che incantasse anche me orsù domani me ne vado a livorno sinsegni per oggi se può ma si assicuri che non sono sì debole avanti ch'io superi l'avversion per le donne ci vuol altro scena seconda il servitore collesso ed un altro piatto e detto ha detto la padrona che se non le piacesse il pollastro le manderà un piccione mi piace tutto e questo che cos'è disse la padrona ch'io le sappia dire se a vostra signoria illustrissima piace questa salsa che l'ha fatta ella con le sue mani costè mi obbliga sempre di più l'assaggia preziosa dille che mi piace che la ringrazio glielo dirò illustrissimo vagliola dir subito subito da sé oh che prodigio manda un complimento a una donna parte è una salsa squisita non ho sentita la meglio certamente se mirandolina farà così avrà sempre de forestieri va mangiando buona tavola buona biancheria e poi non si può negare che non sia gentile ma quel che più stimoli in lei è la sincerità oh quella sincerità è pure la bella cosa perché non posso io veder le donne perché sono finte bugiarde lusinghiere ma quella bella sincerità scena terza il servitore e detto ringrazia vostra signoria illustrissima della bontà che ha da gradire le sue debolezze bravo signor cerimoniere bravo ora sta facendo colle sue mani un altro piatto non so dire che cosa sia sta facendo sì signore dammi da bere la servo va a prendere da bere orsù con costei bisognerà corrispondere con generosità è troppo compita bisogna pagare il doppio trattarla bene ma andar via presto il servitore gli presenta da bere il conte è andato a pranzo beve illustrissimo sì in questo momento oggi fa trattamento ha due dame a tavola con lui due dame chi sono sono arrivate a questa locanda poche ore sono non so chi sieno le conosceva il conte credo di no ma appena le ha vedute le ha invitate a pranzo secco che debolezza appena vede due donne subito si attacca ed esse accettano e sa'l cielo chi sono ma sieno quali esser vogliono sono donne e tanto basta il conte si rovinerà certamente dimmi il marchese è a tavola è uscito di casa e non si è ancora veduto in tavola fa mutare il tondo la servo a tavola con due dame oh che bella compagnia con le loro smorfie mi farebbero passar l'appetito scena quarta mirandolina con un tondo in mano ed il servitore è detto è permesso chi è di là comandi leva là quel tondo di mano perdoni lasci che io abbia l'onore di metterlo in tavola con le mie mani mette in tavola la vivanda questo non è uffizio vostro oh signore chi sono io una qualche signora sono una serva di chi favorisce venire alla mia locanda da sé che umilità in verità non avrei difficoltà di servire in tavola tutti ma non lo faccio per certi riguardi non so se la mi capisca da lei vengo senza scrupoli con franchezza vi ringrazio che vivanda è questa egli è un intingoletto fatto con le mie mani sarà buono quando lo avete fatto voi sarà buono oh troppa bontà signore io non so far niente di bene ma bramerei saper fare per dar nel genio ad un cavaliere sì compito da sé domani a livorno se avete che fare non estate disagio per me niente signore la casa è ben provveduta di cuochi e servitori avrei piacere di sentire se quel piatto le dà nel genio volentieri subito lo assaggia buono prezioso oh che sapore non conosco che cosa sia io signore ho dei secreti particolari queste mani sanno far delle belle cose al servitore con qualche passione dammi da bere dietro questo piatto signore bisogna beverlo buono al servitore dammi del vino di borgogna bravissimo il vino di borgogna è prezioso secondo me per pasteggiare è il miglior vino che si possa bere il servitore presenta la bottiglia in tavola con un bicchiere voi siete di buon gusto in tutto in verità che poche volte m'inganno eppure questa volta voi v'ingannate in che signore in credere ch'io meriti d'essere da voi distinto eh signor cavaliere che cosa c'è? che cosa sono questi sospiri? le dirò delle attenzioni ne uso a tutti e mi rattristo quando penso che non vi sono che ingrati io non vi sarò ingrato con lei non pretendo di acquistare merito facendo unicamente il mio dovere no no conosco benissimo non sono co tanto rozzo quanto voi mi credete di me non avrete a dolervi versa vino nel bicchiere ma signore io non l'intendo beve alla vostra salute obbligatissima mi onora troppo questo vino è prezioso il borgogna è la mia passione se volete siete padrona le offerisce il vino oh grazie signore avete pranzato? illustrissimo sì ne volete un bicchierino? io non merito queste grazie davvero? ve lo do volentieri? non so che dire riceverò le sue finezze al servitore porta un bicchiere no no se mi permette prende il bicchiere del cavaliere prenderò questo ui boh me ne sono servito io beverò le sue bellezze il servitore mette l'altro bicchiere nella sottocoppa e caleotta versa il vino ma è qualche tempo che ho mangiato ho timore che mi faccia male non vi ha pericolo se mi favorisse un pocconcino di pane volentieri tenete le dà un pezzo di pane mirandolina col bicchiere in una mano e nell'altra il pane mostra di stare a disagio e non saper come fare la zuppa voi state in disagio volete sedere? oh non son degna di tanto signore via via siamo soli al servitore portale una sedia da sé il mio padrone vuol morire non ha mai fatto altrettanto va a prendere la sedia se lo sapessero il signor conte e il signor marchese povera me perché cento volte mi hanno voluto obbligare a bere qualche cosa o a mangiare e non ho mai voluto farlo via accomodatevi per obbedirla siede e fa la zuppa nel vino al servitore senti piano non lo dire a nessuno che la padrona sia stata a sedere alla mia tavola piano non dubiti da sé questa novità mi sorprende alla salute di tutto quello che dà piacere al signor cavaliere vi ringrazio padroncina garbata di questo brindisi alle donne non ne tocca no perché perché so che le donne non le può vedere è vero non le ho mai potute vedere si conservi sempre così non vorrei si guarda dal servitore che cosa signore sentite le parla nell'orecchio non vorrei che voi mi faceste mutar natura io signore come al servitore va via comanda in tavola fammi cucinare due uova e quando son cotte portale comale comanda le uova come vuoi spicciati ho inteso da sé il padrone si va riscaldando parte mirandolina voi siete una garbata giovine oh signore mi burla sentite voglio dirvi una cosa vera verissima che ritornerà in vostra gloria la sentirò la sentirò volentieri voi siete la prima donna di questo mondo con cui ho avuto la sofferenza di trattar con piacere le dirò signor cavaliere non già che io meriti niente ma alle volte si danno questi sangui che si incontrano questa simpatia questo genio si da anche fra persone che non si conoscono anch'io provo per lei quello che non ha sentito per alcun altro ho paura che voi mi vogliate far perdere la mia quiete oh via signor cavaliere se un uomo sabio opere da suo pari non dia nelle debolezze degli altri in verità se me n'accorgo qui non ci vengo più anch'io mi sento un non so che di dentro che non ho più sentito ma non voglio impazzire per uomini e molto meno per uno che in odio le donne e che forse forse per provarmi e poi burlarsi di me viene ora con un discorso nuovo a tentarmi signor cavaliere mi favorisco un altro poco di borgogna eh basta versa il vino in un bicchiere da sé sta lì per cadere tenete le dà il bicchiere col vino obbligatissima ma ella non beve sì sì beverò da sé sarebbe meglio che io mi ubriacassi un diavolo scaccerebbe l'altro versa il vino nel suo bicchiere con vezzo signor cavaliere che c'è tocchi gli fa toccare il bicchiere col suo che vivano i buoni amici un poco languente che vivano viva chi si vuol bene senza malizia tocchi evviva scena quinta il marchese e detti son qui ancora io e che viva alterato come signor marchese compatite amico ho chiamato non c'è nessuno con sua licenza vuola andar via a mirandolina fermatevi al marchese io non mi prendo con voi co tanta libertà vi domando scusa siamo amici credeva che foste solo mi rallegro vedervi accanto alla nostra adorabile padroncina ah che dite non è un capo d'opera signore io ero qui per servire il signor cavaliere mi è venuto un poco di male ed egli mi ha soccorso con un bicchierin di borgogna al cavaliere è borgogna quello sì è borgogna ma di quel vero almeno l'ho pagato per tale io me n'intendo lasciate che lo senta e vi saprò dire se è o se non è chiama ehi scena sesta il servitore colle ova e detti al servitore un bicchierino al marchese non tanto piccolo il bicchierino il borgogna non è liquore per giudicarne bisogna beverne a sufficienza ecco le ova vuol metterle in tavola non voglio altro che vivanda è quella ova non mi piacciono il servitore le porta via signor marchese con licenza del signor cavaliere senta quell'intingoletto fatto con le mie mani oh sì ehi una sedia il servitore gli reca una sedia e mette il bicchiere sulla sottocoppa una forchetta via recagli una posata il servitore la va a prendere signor cavaliere ora sto meglio me nanderò salsa fatemi il piacere restate ancora un poco ma signore ho da attendere a fatti miei e poi il signor cavaliere al cavaliere vi contentate che la resti ancora un poco che volete da lei voglio farvi sentire un bicchierino di vin di cipro che da che siete al mondo non avrete sentito il compagno e ho piacere che mirandolina lo senta e dica il suo parere a mirandolina via per compiacere il signor marchese restate il signor marchese mi dispenserà non volete sentirlo un'altra volta eccellenza via restate al cavaliere me lo comanda vi dico che restiate obbedisco siede da sé mi obbliga sempre più mangiando oh che roba oh che intingolo oh che odore oh che sapore piano a mirandolina il marchese avrà gelosia che siate vicina a me piano al cavaliere non mi importa di lui né poco né molto siete anche voi nemica degli uomini come ella lo è delle donne queste mie nemiche si vanno vendicando di me come signore eh furba voi vedrete benissimo amico alla vostra salute beve il vino di borgogna ebbene come vi pare con vostra buona grazia non val niente sentite il mio vin di cipro ma dov'è questo vino di cipro l'ho qui l'ho portato con me voglio che ce lo godiamo ma è di quello eccolo tira fuori una bottiglia assai piccola per quel che vedo signor marchese non vuole che il suo vino ci vada alla testa questo si beve a gocce come lo spirito di melissa ehi li bicchierini apre la bottiglia servitore porta dei bicchierini da vino di cipro eh son troppo grandi non ne avete di più piccoli copre la bottiglia con la mano al servitore porta quei da rosolio io credo che basterebbe odorarlo lo annusa uh caro ha un odor che consola servitore porta tre bicchierini sulla sottocoppa marchese versa pian piano e non empie li bicchierini poi lo dispensa al cavaliere a mirandolina e l'altro per sé durando bene la bottiglia bevendo che nettare che ambrosia che manna distillata a mirandolina piano che vi pare di questa porcheria al cavaliere piano lavatura di fiaschi al cavaliere ah che dite buono prezioso ah mirandolina vi piace per me signore non posso dissimulare non mi piace lo trovo cattivo e non posso dir che sia buono l'odo chi sa fingere ma chi sa fingere in una cosa savrà fingere nell'altra ancora da sé costai mi dà un rimprovero non capisco il perché mirandolina voi di questa sorta di vini non ve ne intendete vi compatisco veramente il fazzoletto che vi ho donato l'avete conosciuto e vi è piaciuto ma il vin di cipro non lo conoscete finisce di bere al cavaliere piano sente come si vanta a mirandolina piano io non farei così il di lei vanto sta nel disprezzare le donne e il vostro nel vincere tutti gli uomini convezzo al cavaliere piano tutti no con qualche passione piano a mirandolina tutti sì ehi tre bicchierini politi al servitore il quale glieli porta sopra una sottocoppa per me non ne voglio più no no non dubitate non faccio per voi mette del vino di cipro nei tre bicchieri galantuomo con licenza del vostro padrone andate dal conte d'alba fiorita e ditegli per parte mia forte che tutti sentano che lo prego di assaggiare un poco del mio vino di cipro sarà servito da sé questo non l'ubriaca certo parte marchese voi siete assai generoso io domandatelo a mirandolina oh certamente a mirandolina l'ha veduto il fazzoletto il cavaliere non l'ho ancora veduto al cavaliere lo vedrete questo poco di balsamo me lo salvo per questa sera ripone la bottiglia con un dito di vino avanzato va di che non gli faccia male signor marchese a mirandolina eh sapete che cosa mi fa male che cosa i vostri begli occhi davvero cavaliere mio io sono innamorato di costei perdutamente me ne dispiace voi non avete mai provato amore per le donne oh se lo provaste compatireste ancora me sì vi compatisco e son geloso come una bestia la lascio stare vicino a voi perché so chi siete per altro non lo soffrirei per centomila doppie da sé costui principia a seccarmi scena settima il servitore con una bottiglia sulla sottocoppa e detti al marchese il signor conte ringrazia vostra eccellenza e manda una bottiglia di vino di canarie oh oh vorrà mettere il suo vin di canarie col mio vino di cipro lascia vedere povero pazzo è una porcheria lo conosco all'odore s'alza e tiene la bottiglia in mano al marchese assaggiatelo prima non voglio assaggiar niente questa è una impertinenza che mi fa il conte compagna di tante altre vuol sempre starmi al di sopra vuol soverchiarmi vuol provocarmi per farmi far delle bestialità ma giuro al cielo ne farò una che varrà per cento mirandolina se non lo cacciate via nasceranno delle cose grandi sì nasceranno delle cose grandi colui è un temerario io son chi sono e non voglio soffrire simili affronti parte e porta via la bottiglia scena ottava il cavaliere mirandolina ed il servitore il povero marchese è pazzo se a caso mai la bile li facesse male ha portato via la bottiglia per ristorarsi è pazzo vi dico e voi lo avete fatto impazzire sono di quelle che fanno impazzare gli uomini con affanno sì voi siete signor cavaliere con sua licenza salsa fermatevi andando perdoni io non faccio impazzare nessuno ascoltatemi salsa ma resta alla tavola andando scusi con imperio fermatevi vi dico con alterezza voltandosi che pretende da me si confonde nulla beviamo un altro bicchiere di borgogna via signore presto presto che me ne vada sedete in piedi in piedi con dolcezza le dà il bicchiere tenete faccio un brindisi e me ne vado subito un brindisi che mi ha insegnato mia nonna viva bacco e viva amore l'uno e l'altro ci consola uno passa per la gola l'altro va dagli occhi al cuore bevo il vin con gli occhi poi faccio quel che fate voi parte scena nona il cavaliere ed il servitore bravissima venite qui sentite ah malandrina se n'è fuggita se n'è fuggita e mi ha lasciato cento diavoli che mi tormentano al cavaliere comanda le frutta in tavola va al diavolo anche tu il servitore parte bevo il vin con gli occhi poi faccio quel che fate voi che brindisi misterioso è questo ah maledetta ti conosco mi vuoi abbattere mi vuoi assassinare ma lo fa con tanta grazia ma sa cosí bene insinuarsi diavolo diavolo me la farai tu vedere no andrò a livorno costei non la voglio più rivedere che non mi venga più tra i piedi maledettissime donne dove vi sono donne lo giuro non vi andrò mai più scena x camera del conte il conte d'alba fiorita hortensia e dejanira il marchese di forlipopoli comedia aspetti che arrivi la compagnia e che si vada in teatro e può darsi che ce lo godiamo abbiamo noi dei personaggi che per imitare i caratteri sono fatti apposta ma se volete che ce lo godiamo bisogna che con lui seguitiate a fingervi da me io lo farò certo ma dejanira subito da di bianco mi viene da ridere quando i gongi mi credono una signora con me avete fatto bene a scoprirvi in questa maniera mi date campo di far qualche cosa in vostro vantaggio il signor conte sarà il nostro predittore siamo amiche goderemo unitamente le dille grazie vi dirò vi parlerò con sincerità vi servirò dove potrò farlo ma ho un certo impegno che non mi permetterà frequentare la vostra casa ha qualche amoretto signor conte? sì ve lo dirò in confidenza la padrona della locanda capperi veramente una gran signora il meraviglio di lei signor conte che si perda con una locandiera sarebbe minor male che si compiacesse di impiegare le sue finezze per una comica il fal all'amore con voi altre per dirvela mi piace poco ora ci siete ora non ci siete non è meglio così signore in questa maniera non si eternano le amicizie e gli uomini non si rovinano ma io tante sono impegnato le voglio bene e non la vo disgustare ma che cosa ha di buono costei oh ha del buono assai ehi dejanira è bella rossa facendo che si belletta ha un grande spirito oh in materia di spirito la vorreste mettere con noi ora basta siccome esse si voglia mirandolina mi piace e se volete la mia amicizia avete dirne bene altrimenti fate conto di non avermi mai conosciuto oh signor conte per me dico che mirandolina è una dea venere sì sì vero ha dello spirito parla bene ora mi date gusto quando non vuoi altro sarà servito osservando dentro la scena oh avete veduto quello che è passato per sala l'ho veduto quello è un altro bel carattere da camedia è uno che non può vedere le donne oh che pazzo avrà qualche brutta memoria di qualche donna oi boh non è mai stato innamorato non ha mai voluto trattare con donne le sprezza tutte e basta dire che egli le sprezza ancora mirandolina poverino se mi ci mettessi attorno io scommetto lo farei cambiare opinione veramente una gran cosa questa è un'impresa che la vorrei pigliare sopra di me sentite amiche così per puro divertimento se vi da l'anima d'innamorarlo da cavalieri vi faccio un bel regalo io non intendo esser ricompensata per questo lo farò per mio spasso se il signor conte vuole usarci qualche finezza non l'ha da fare per questo sin che arrivano i nostri compagni ci divertiremo un poco dubito che non farete niente niente signor conte ha ben poca stima di noi non siamo vezzose come mirandolina ma finalmente sappiamo qualche poco il viver del mondo volete che lo mandiamo a chiamare faccio come vuole eh chi è di là scena undicesima il servitore del conte e detti al servitore di al cavaliere di ripafrata che favorisca finir da me che mi preme di pagliarli nella sua camera so che non c'è l'ho venuto andar verso la cucina lo traverai subito parte da sé chi mai è andato a far verso la cucina scommetto che è andato a strapazzare mirandolina perché gli ha dato mal da mangiare signor conte io aveva pregato il signor marchese che mi mandasse il suo calzolaro ma ho paura di non vederlo non pensate altro vi servirò io a me aveva il signor marchese promesso un fazzoletto ma ora me lo porta di fazzoletti ne trovaremo egli è che ne avevo proprio di bisogno se questo vi gradisce siete padrona e pulito le offre il suo di seta obbligatissima alle sue finezze oh ecco il cavaliere sarà meglio che sostenghiate il crattere di dame per poterlo meglio obbligare a ascoltarvi per civiltà ritiratevi un poco dietro che se ne vede fugge come si chiama il cavaliere di rip e fratta toscano ha moglie non può vedere le donne ritirandosi è ricco sì molto ritirandosi e generoso piuttosto venga venga si ritira tempo e non dubiti si ritira scena dodicesima il cavaliere e detti conte siete voi che mi volete sì io v'ho dato il presente incomodo che cosa posso fare per servirvi queste due dame hanno bisogno di voi gli ha dita le due donne le quali subito s'avanzano disimpegnatemi io non ho tempo di trattenermi signor cavaliere non intendo di recargli incomodo una parola in grazia signor cavaliere signore mie vi supplico perdonarmi a una far di premura in due parole vi sbrighiamo due paroline e non più signore da sé maledettissimo conte caro amico due dame che pregano vuole la civiltà che si ascoltino alle donne con serietà perdonate in che vi posso servire non siete voi toscano signore sì signora avrete degli amici in firenze ho degli amici e ho dei parenti sappiate signore amica principiati a dir voi dirò signor cavaliere sappia che un certo caso via signore vi supplico a un affar di premura partendo orsù capisco che la mia presenza vi dà confidatevi con libertà al cavaliere ch'io vi levo l'incomodo no amico restate sentite so il mio dovere servo di lor signore parte scena tredicesima ortensia de janira ed il cavaliere favorisca sediamo scusi non ho volontà di sedere così rustico con le donne favoriscano dirmi che cosa vogliono abbiamo bisogno del vostro aiuto della vostra protezione della vostra bontà che cosa vi è accaduto i nostri mariti ci hanno abbandonate con alterezza abbandonate come due dame abbandonate chi sono i vostri mariti ad ortensia amica non vado avanti sicuro da sé è tanto indiavolato che or ora mi confondo ancor io in atto di partire signore vi riverisco come così ci trattate un cavaliere tratta così perdonatemi io son uno che ama assai la mia pace sento due dame abbandonate dai loro mariti qui ci saranno degli impegni non pochi io non sono atto a maneggi vivo a me stesso dame riveritissime da me non potete sperare né consiglio né aiuto ovvia dunque non lo tenghiamo più in soggezione il nostro amabilissimo cavaliere sì parliamogli con sincerità che nuovo linguaggio è questo noi non siamo dame no il signor conti ha voluto farvi uno scherzo lo scherzo è fatto vi riverisco vuol partire fermatevi un momento che cosa volete degnateci per un momento della vostra amabile conversazione ho che fare non posso trattenermi non vi vogliamo già mangiar niente non vi leveremo la vostra reputazione sappiamo che non potete vedere le donne se lo sapete lo caro vi riverisco vuol partire ma sentite noi non siamo donne che possano darvi ombra chi siete diteglielo voi deianira glielo potete dire anche voi via chi siete siamo due commedianti due commedianti parlate parlate che non ho più paura di voi son ben prevenuto in favore dell'arte vostra che vuol dire spiegatevi so che fingete iniscena e fuor di scena e con tal prevenzione non ho paura di voi signore fuori di scena io non so fingere adeia nira come si chiama ella la signora sincera io mi chiamo è ella la signora buonalana caro signor cavaliere come si diletta amicheggiare io non sono i gonzi come li tratta padrona mia non son di quelle anch'io so parlare in gergo oh che caro signor cavaliere vuol prenderlo per un braccio bassa le cere dandole nelle mani diamine ha più del contrasto che del cavaliere contrasto vuol dir contadino vi ho capito e vi dirò che siete due impertinenti a me questo a una donna della mia sorte ad ortensia bello quel viso trionfato asino parte ad ianira bello quel tupè finto maledetto parte scena xiv il cavaliere poi il di lui servitore ho trovata ben io la maniera di farle andare che si pensavano di tirarmi nella rete povere sciocche vadano ora dal conte e gli narrino la bella scena se erano dame per rispetto mi conveniva fuggire ma quando posso le donne le strapazzo col maggior piacere del mondo non ho perù potuto strapazzar mirandolina ella mi ha vinto con tanta civiltà che mi trovo obbligato quasi ad amarla ma è donna non me ne voglio fidare voglio andar via domani anderò via ma se aspetto a domani se vengo questa sera a dormire a casa chi mi assicura che mirandolina non finisca a rovinarmi pensa sì facciamo una risoluzione da uomo signore che cosa vuoi il signor marchese è nella di lei camera che l'aspetta perché desidera di parlargli che vuole codesto pazzo denari non me ne cava più di sotto che aspetti e quando sarà stracco di aspettare se n'anderà vada al cameriere della locanda e digli che subito porti il mio conto sarà uvedita in atto di partire senti fa che da qui a due ore siano pronti i bauli vuol partire forse sì portami qui la spada ed il cappello senza che se ne accorga al marchese ma se mi vede fare i bauli dica ciò che vuole mai inteso da sé oh quanto mi dispiace andar via per causa di mirandolina parte eppure è vero io sento nel partir di qui una dispiacenza nuova che non ho mai provata tanto peggio per me se vi restassi tanto più presto mi convien partire sì donne sempre più dirò male di voi sì voi ci fate del male ancora quando ci volete fare del bene è vero signore che vuole il conto si l'avete portato adesso la padrona lo fa ella fa i conti oh sempre ella anche quando viveva suo padre scrive e sa far di conto meglio di qualche giovane di negozio da sé che donna singolare costei ma vuole ella andar via così presto eh sì così vogliono i miei affari la prego di ricordarsi del cameriere portate il conto e so quel che devo fare lo vuol qui il conto lo voglio qui in camera per ora non ci vado fa bene in camera sua viè quel seccatore del signor marchese carino fa l'innamorato della padrona ma può leccarsi le dita mirandolina deve esser mia moglie alterato il conto la servo subito parte scena sedicesima cavaliere solo tutti sono invaghiti di mirandolina non è meraviglia se ancor io principiava a sentirmi accendere manderò via supererò questa incognita forza che vedo mirandolina che vuole da me ha un foglio in mano mi porterà il conto che cosa ho da fare convien soffrire quest'ultimo assalto già da qui a due ore io parto scena diciassettesima mirandolina con un foglio in mano e detto mestamente signore che c'è mirandolina stando indietro perdoni venite avanti mestamente ha domandato il suo conto l'ho servita date qui eccolo si asciuga gli occhi col grembiale nel dargli il conto che avete piangete niente signore mi han dato del fumo negli occhi del fumo negli occhi eh basta quanto importa il conto legge venti paoli in quattro giorni un trattamento si generoso venti paoli quello è il suo conto e i due piatti particolari che mi avete dato questa mattina non ci sono nel conto perdoni quel ch'io dono non lo metto in conto me li avete voi regalati perdoni la libertà gradisca per un atto di si copre mostrando di piangere ma che avete non so se sia il fumo o qualche flussione di occhi non vorrei che aveste patito cucinando per me quelle due preziose vivande se fosse per questo lo soffrirei volentieri mostra trattenersi di piangere da sé eh se non vado via orsciù tenete queste sono due doppie godetele per amor mi e compatitemi s'imbroglia senza parlare mirandolina cade come svenuta sopra una sedia mirandolina ahimè mirandolina è svenuta che fosse innamorata di me ma così presto perché no non sono io innamorato di lei cara mirandolina cara io cara ad una donna ma sei venuta per me oh come tu sei bella ma avessi qualche cosa per farla rinvenire io che non pratico donne non ho spiriti non ho ampolle chi è di là vi è nessuno presto andrò io poverina che tu sia benedetta parte e poi ritorna ora poi è caduto affatto molte sono le nostre armi con le quali si vincono gli uomini ma quando sono ostinati il colpo di riserva sicurissimo è uno svenimento torna torna si mette come sopra cavaliere torna con un vaso d'acqua eccomi eccomi e non è ancor rinvenuta certamente costei mi ama la spruzza ed ella si va movendo animo animo son qui cara non partirò più per ora scena diciottesima il servitore con la spada e cappello e detti al cavaliere ecco la spada ed il cappello al servitore con ira va via va via che tu sia maledetto va che ti spacco la testa lo minaccia col vaso il servitore parte e non rinviene ancora la fronte le suda via cara mirandolina fatevi coraggio aprite gli occhi parlatemi con libertà scena diciannovesima il marchese ed il conte e detti cavaliere amico oh maledetti va smaniando mirandolina oimè salsa io l'ho fatta rinvenire mi rallegrò signor cavaliere bravo quel signore che non può veder le donne che impertinenza siete cduto andate al diavolo quanti siete getta il vaso in terra e lo rompe verso il conte ed il marchese e parte furiosamente il cavaliere è diventato pazzo parte di questo affronto voglio soddisfazione parte l'impresa è fatta il di lui cuore è in fuoco in fiamme in cenere restami solo per compiere la mia vittoria che si renda pubblico il mio trionfo a scorno degli uomini presuntuosi e a onore del nostro sesso parte fine secondo atto terzo atto di la locandiera di carlo goldoni questa è una registrazione libri vox tutte le registrazioni libri vox sono di dominio pubblico per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito libri vox.org scena prima camera di mirandolina con tavolino e biancheria da stirare mirandolina poi fabrizio orsù l'ora del divertimento è passata voglio ora badare a fatti miei prima che questa biancheria si prosciughi del tutto voglio stirarla ehi fabrizio signora fatemi un piacere portatemi il ferro caldo con serietà in atto di partire signora sì scusate se do a voi questo disturbo niente signora finchè io mangio il vostro pane sono obbligato a servirvi vuoi partire fermatevi sentite non siete obbligato a servirmi queste cose ma so che per me lo fate volentieri ed io basta non dico altro per me vi porterei l'acqua colle orecchie ma vedo che tutto è gettato via perché gettato via sono forse un ingrata voi non degnate i poveri uomini vi piace troppo la nobiltà povero pazzo se vi potessi dir tutto via via andatemi a pigliare il ferro ma se ho veduto io con questi miei occhi andiamo meno charles portatemi il ferro andando vado 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 vi servirò ma per poco mostrando parlar da sé ma per esser sentita con questi uomini più che loro si vuol bene si fa peggio con tenerezza tornando indietro che cosa avete detto via mi portate questo ferro sì ve lo porto da sé non so niente ora la mi tira su ora la mi butta giù non so niente parte scena seconda mirandolina poi il servitore del cavaliere povero sciocco mi ha da servire a suo marcio dispetto mi par di ridere a far che gli uomini facciano a modo mio e quel caro signor cavaliere che era tanto nemico delle donne ora se volessi sarei padrona di farle fare qualunque bestialità signora mirandolina che c'è amico il mio padrone la riverisce e manda a vedere come sta diteli che sto benissimo dice così che beva un poco di questo spirito di melissa che le farà assai bene le da una boccetta d'oro è d'oro questa boccetta sì signora d'oro lo so di sicuro perché non mi ha dato lo spirito di melissa quando mi è venuto quell'orribile svenimento allora questa boccetta egli non l'aveva ed ora come l'ha avuta sentite in confidenza mi ha mandato ora a chiamare un orefice l'ha comprata e l'ha pagata dodici zecchini e poi mi ha mandato dallo speziale e comprar lo spirito ridete rido perché mi manda il medicamento dopo che son guarita del male sarà buono per un'altra volta via ne beverò un poco per preservativo beve tenete ringraziatelo gli vuol dar la boccetta oh la boccetta è vostra come mia sì il padrone l'ha comprata apposta apposta per me per voi ma zitto portateli la sua boccetta e diteli che lo ringrazio e via vi dico che gliela portiate che non la voglio gli volete fare quest'affronto meno charles fate il vostro dovere tenete non occorra altro gliela porterò da sé oh che donna ricusa dodici zecchini una simile non l'ho più ritrovata e durerò fatica a trovarla scena terza mirandolina poi fabrizio è cotto stracotto e biscottato ma siccome quel che ho fatto con lui non l'ho fatto per interesse voglio che i confessi la forza delle donne senza poter dire che sono interessate e venali sostenuto col ferro da stirare in mano ecco qui il ferro è ben caldo signora sì è caldo così fossi io abbruciato che cosa vi è di nuovo questo signor cavaliere manda le ambasciate manda i regali il servitore me l'ha detto signor sì mi ha mandato una boccettina d'oro ed io gliel'ho rimandata indietro gliel'avete rimandata indietro sì domandatelo al servitore medesimo perché gliel'avete rimandata indietro perché fabrizio non dica orsù non parliamo altro cara mirandolina compatitemi via andate lasciatemi stirare io non vi impedisco di fare andatemi a preparare un altro ferro e quando è caldo portatelo sì vado credetemi che se parlo non dite altro mi fate venire la rabbia stoccheto da sé e l'è una testolina bizzarra ma le voglio bene parte anche questa è buona mi faccio merito con fabrizio d'aver ricusata la boccetta d'oro del cavaliere questo vuol dir saper vivere saper fare saper approfittare di tutto con buona grazia con pulizia con un poco di disinvoltura in materia d'accortezza non voglio che si dica che io faccio torta al sesso va stirando scena quarta il cavaliere è detta da sé indietro eccola non ci volevo venire e il diavolo mi ci ha trascinato lo vede con la cuda dell'occhio e stira eccolo eccolo mirandolina stirando oh signor cavaliere serva umilissima come state stirando senza guardarlo benissimo per servirla ho motivo di dolermi di voi guardandolo un poco perché signore perché avete ricusato una piccola boccetta che vi ho mandato stirando che voleva ch'io ne facessi servirvene nelle occorrenze stirando per grazia del cielo non sono soggetta agli svenimenti mi è accaduto oggi quello che mi è accaduto mai più cara mirandolina non vorrei esser io stato la cagione di questo funesto accidente eh sì ho timore che ella appunto ne sia stata la causa compassione io davvero stirando con rabbia mi ha fatto bere quel maledetto vino di borgogna e mi ha fatto male rimane mortificato come possibile stirando è così senz'altro in camera sua non ci vengo mai più amoroso v'intendo in camera mia non ci verrete più capisco il mistero sì lo capisco ma veniteci cara che vi chiamerete contenta questo ferro è poco caldo ehi fabbrizio forte verso la scena se l'altro ferro è caldo portatelo fatemi questa grazia tenete questa boccetta con disprezzo stirando in verità signor cavaliere dei regali io non ne prendo li avete pur presi dal conte d'alba fiorita stirando per forza per non disgustarlo e vorreste fare a me questo torto e disgustarmi che importa a lei che una donna la disgusti già le donne non le può vedere ah mirandolina ora non posso dire così signor cavaliere a che ora fa la luna nuova il mio cambiamento non è lunatico questo è prodigio della vostra bellezza della vostra grazia stirando ridete non vuol che rida mi burla e non vuol che io rida eh furbetta vi burlo eh via prendete questa boccetta stirando grazie grazie prendetela o mi farete andare in collera chiamando forte con caricatura fabbrizio il ferro alterato la prendete o non la prendete prendete la boccetta e con disprezzo la getta nel paniere della biancheria furia 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 la gettate così chiama forte come sopra fabbrizio scena quinta fabbrizio col ferro e detti son qua vedendo il cavaliere si ingelosisce è caldo bene prende il ferro sostenuto signora sì a fabbrizio con tenerezza che avete che mi parete turbato niente padrona niente come sopra avete male datemi laltro ferro se volete che lo metta nel fuoco come sopra in verità ho paura che abbiate male via dategli il ferro e che se ne vada al cavaliere li voglio bene sa è il mio cameriere fidato da sé smaniando non posso più dai il ferro a fabbrizio tenete caro scaldatelo con tenerezza signora padrona via via presto lo scaccia da sé che vivere è questo sento che non posso più parte scena sesta il cavaliere e mirandolina gran finezze signora al suo cameriere e per questo che cosa vorrebbe dire si vede che ne siete invaghita io innamorata di un cameriere mi fa un bel complimento signore non sono di sì cattivo gusto io quando volessi amare non getterei il mio tempo sì malamente voi meritereste l'amore di un re stirando del re di spade o del re di coppe parliamo sul serio mirandolina e lasciamogli scherzi stirando parli pure che io l'ascolto non potreste per un poco lasciare di stirare oh perdoni mi preme allestire questa biancheria per domani mi preme dunque quella biancheria più di me stirando sicuro e allora lo confermate stirando certo perché di questa biancheria me ne ho da servire e di lei non posso far capitale di niente anzi potete dispor di me con autorità eh che ella non può vedere le donne non mi tormentate più vi siete vendicata abbastanza stimo voi stimo le donne che sono della vostra sorte seppur ve ne sono vi stimo vi amo e vi domando pietà sì signore glielo diremo stirando in fretta si fa cadere un manicotto cavaliere leva di terra il manicotto e glielo dà credetemi non s'incomodi voi meritate di esser servita ridete rido perché mi burla mirandolina non posso più le vien male sì mi sento mancare tenga il suo spirito di melizza gli getta con disprezzo la boccetta non mi trattate con tanta asprezza credetemi vi amo ve lo giuro vuol prenderle la mano ed ella col ferro lo scotta ahimè perdoni non l'ho fatto apposta pazienza questo non è niente mi avete fatto una scottatura più grande dove signore nel cuore fabrizio per carità non chiamate colui ma se ho bisogno dell'altro ferro aspettate chiamerò il mio servitore fabrizio vuol chiamare fabrizio giuro al cielo se viene colui gli spacco la testa oh questa è bella non mi potrò servire della mia gente chiamate un altro colui non lo posso vedere mi pare che ella si avanzi un poco troppo signor cavaliere si scosta dal tavolino col ferro in mano compatitemi son fuori di me andrò io in cucina e sarà contento no cara fermatevi passeggiando è una cosa curiosa questa le va dietro compatitemi passeggia non posso chiamar chi voglio le va dietro lo confesso ho gelosia di colui da sé passeggiando mi vien dietro come un cagnolino questa è la prima volta ch'io provo che cosa sia amore camminando nessuno mi ha mai comandato la segue non intendo di comandarvi vi prego voltandosi con alterezza ma che cosa vuole da me amore compassione pietà un uomo che stamattina non poteva vedere le donne oggi chiede amore e pietà non gli abbado non può essere non gli credo da sé crepa schiatta impara a disprezzare le donne parte scena settima cavaliere solo oh maledetto il punto in cui ho principiato a mirar costei son caduto nel laccio e non vi è più rimedio scena ottava il marchese è detto cavaliere voi mi avete insultato compatitemi fu un accidente i meraviglio di voi finalmente il vaso non vi ha colpito una gocciola d'acqua mi ha macchiato il vestito torno a dir compatitemi questa è un impertinenza non l'ho fatto apposta compatitemi per la terza volta voglio soddisfazione se non volete compatirmi se volete soddisfazione son qui non ho soggezione di voi cangiandosi ho paura che questa macchia non voglia andare via questo è quello che mi fa andare in collera coni sdegno quando un cavalier vi chiede scusa che pretendete di più se non l'avete fatto malizia lasciamo andare vi dico che son capace di darvi qualunque soddisfazione via non parliamo altro cavaliere mal nato oh questa è bella a me è passata la collera e voi ve la fate venire ora per l'appunto mi avete trovato in buona luna vi compatisco so che male avete i fatti vostri io non li cerco signor inimico delle donne ci siete caduto eh io come sì siete innamorato sono il diavolo che vi porti che serve nascondersi lasciatemi stare che giuro al cielo ve ne farò pentire parte scena nona marchese solo è innamorato si vergogna e non vorrebbe che si sapesse ma forse non vorrà che si sappia per chi ha paura di me avrà soggezione a dichiararsi per mio rivale mi dispiace assaissimo di questa macchia se sapessi come far a levarla queste donne sogliano avere della terra da levar le macchie osserva nel tavolino e nel paniere bella questa boccetta che sia d'oro o di Princess Beck eh sarà di Princess Beck se fosse d'oro non la lascerebbero qui se vi fosse dell'acqua della regina sarebbe buona per levar questa macchia apre odora e gusta è spirito di Melissa tant'è tanto sarà buono voglio provare scena decima Dejanira è detto signor marchese che fa qui solo non favorisce mai oh signora contessa veniva orora per riverirla che cosa stava facendo vi dirò io sono amantissimo della pulizia voleva ma levare questa piccola macchia con che signore con questo spirito di Melissa oh perdoni lo spirito di Melissa non serve anzi farebbe venire la macchia più grande dunque come ho da fare io ho un segreto per cavar le macchie mi farete piacere a insegnarmelo volentieri mi impegno con uno scudo far andar via quella macchia che non si vedrà nemmeno dove sia stata vi vuole uno scudo si signore vi pare una gran spesa è meglio provare lo spirito di Melissa favorisca è buono quello spirito prezioso sentite le dà la boccetta assaggiandolo oh io ne so fare del meglio sapete fare degli spiriti si signore mi diletto di tutto brava damina brava così mi piace sarà d'oro questa boccetta non volete è oro sicuro da sé non conosce l'oro del princess beck è sua signor marchese è mia è vostra se comandate obbligatissima le sue grazie la mette via eh so che scherzate come non me l'ha esibita non è cosa da vostra pari è una bagatella vi servirò di cosa migliore se ne avete voglia oh mi meraviglio è anche troppo la ringrazio signor marchese sentite in confidenza non è oro è princess beck tanto meglio la stimo più che se fosse oro e poi quel che viene dalle sue mani è tutto prezioso basta non so che dire servitevi se vi degnate da sé pazienza bisognerà pagarla mirandolina che cosa può valere un filippo il signor marchese è un cavalier generoso mi vergogno a regalar queste bagatelle vorrei che quella boccetta fosse d'oro in verità pare propriamente oro la tira fuori e la osserva ognuno s'ingannerebbe è vero chi non ha pratica dell'oro s'inganna ma io lo conosco subito anche al peso par che sia oro eppur non è vero voglio farla vedere alla mia compagna sentite signora contessa non la fate vedere a mirandolina è una ciarliera non so se mi capite intendo benissimo la fu vedere solamente ad hortensia alla baronessa sì sì alla baronessa ridendo parte scena undicesima il marchese poi il servitore del cavaliere credo credo che se ne rida perchè mi ha levato con quel bel garbo la boccettina tant'era se fosse stata d'oro manco male che con poco la giusterò se mirandolina vorrà la sua boccetta gliela pagherò quando ne avrò servitore cerca sul tavolo diamine sarà questa boccetta che cosa cercate galantuomo cerco una boccetta di spirito di melissa la signora mirandolina la vorrebbe dice che l'ha lasciata qui ma non la ritrovo era una boccettina di princess back no signore era d'oro d'oro certo che era d'oro l'ho veduto a comprare io per dodici zecchini cerca da sé oh povero me ma come lasciar così una boccetta d'oro se l'è scordata ma io non la trovo mi pare ancora impossibile che fosse d'oro era oro gli dico l'ha forse veduta vostra eccellenza io non ho veduto niente basta le dirò che non la trovo suo danno doveva mettersela in tasca parte scena dodicesima il marchese poi il conte oh povero marchese di forlipopoli ho donata una boccetta d'oro che val dodici zecchini e l'ho donata per princess back come ho da regolarmi in un caso di tanta importanza se recupero la boccetta dalla contessa mi fu ridicolo presso di lei se mirandolina viene a scoprire ch'io l'abbia avuta è in pericolo il mio decoro son cavaliere devo pagarla ma non ho denari che dite signor marchese della bellissima novità di quale novità il cavaliere selvatico il disprezzator delle donne innamorato di mirandolina lo caro conosca a suo malgrado il merito di questa donna veda che io non b'invaghisco di chi non merita e peni e crepi per gastigo della sua impertinenza ma se mirandolina gli corrisponde ciò non può essere ella non farà a me questo torto sa chi sono sa cosa ho fatto per lei io ho fatto per essa assai più di voi ma tutto è gettato mirandolina coltiva il cavaliere di ripa fratta ha usato verso di lui quelle attenzioni che non ha praticato né a voi né a me e vedesi che quelle donne più che si sa meno si merita e che i burlandosi esse di che le adora corrono dietre a chi le disprezza se ciò fosse vero ma non può essere perché non può essere vorreste mettere il cavaliere a confronto di me non l'avete veduto voi stesso sedere alla di lui tavola con noi ha praticato mai un atto di simile confidenza a lui biancheria distinta servitò in tavola prima di tutti la pietanza gliele fa ella con le sue mani i servadori vedono tutto e parlano fabrizio freme di gelosia e poi quello svenimento vero o finto che fosse non è segno manifesto d'amore come a lui si fanno gli intingoli saporiti e a me carnaccia di bue e minestra di riso lungo sì è vero questo è uno strapazzo al mio grado alla mia condizione ed io che ho speso tanto per lei ed io che la regalava continuamente le ho fino dato da bere di quel vino di cipro così prezioso il cavaliere non avrà affatto con costei una minima parte di quello che abbiamo fatto noi non dubitate che anche egli l'ha regalata sì che cosa le ha donato una boccettina d'oro con dello spirito di melissa da sé oimè come l'avete saputo il di lui servidore l'ha detto al mio da sé sempre peggio entro in un impegno col cavaliere vedo che costei è un ingrata voglio assolutamente lasciarla voglio partire ora da questa locanda indegna sì fate bene andate e voi che siete un cavaliere di tanta riputazione dovreste partire con me ma dove dovrei andare vi troverò io un alloggio lasciate pensare a me quest'alloggio sarà per esempio andremo in casa dun mio pesano non ne spenderemo nulla basta siete tanto amico mio che non posso dirvi di no andiamo e vendichiamoci di questa femmina sconescente sì andiamo da sé ma come sarà poi della boccetta son cavaliere non posso fare una malazione non vi pentite signor marchese andiamo via di qui fatemi questo piacere e poi comandatemi dove posso che vi servirò vi dirò in confidenza ma che nessuno lo sappia il mio fattore mi ritarda qualche volta le mie rimesse le avete forse da dar qualche cosa? sì dodici zecchini dodici zecchini? bisogna che sia dei mesi che non pagate così è le devo dodici zecchini non posso di qua partire senza pagarla se voi mi faceste il piacere volontieri eccovi dodici zecchini tira fuori la borsa aspettate ora che mi ricordo sono tredici da sé voglio rendere il suo zecchino anche al cavaliere dodici o tredici è lo stesso per me tenete ve li renderò quanto prima servitevi quanto vi piaci denari a me non ne mancano e per vendicarmi di costei spenderei mille doppie sì veramente è un ingrata ho speso tanto per lei e mi tratta così voglio rovinare la sua locanda ho fatto andar via anche quelle due comedianti dove sono le comedianti? erano qui hortensia ed eginira come non sono da me? no sono due comiche sono arrivati i loro compagni e la favola è terminata da sé la mia boccetta dove sono alloggiate? in una casa vicino al teatro da sé vado subito a recuperare la mia boccetta parte con costei mi voglio vendicar così il cavaliere poi che ha saputo fingere per tradirmi in altra maniera me ne renderà conto parte scena tredicesima camera con tre porte mirandolina sola oh meschina a me sono nel brutto impegno se il cavaliere mi arriva sto fresca si è indiavolato maledettamente non vorrei che il diavolo lo tentasse di venir qui voglio chiudere questa porta serra la porta da dove è venuta ora principio quasi a pentirmi di quel che ho fatto è vero che mi sono assai divertita nel farmi correre dietro a tal segno un superbo un disprezzator delle donne ma ora che il satiro è sulle furie vedo in pericolo la mia reputazione e la mia vita medesima qui mi conviene risolvere qualche cosa di grande sono sola non ho nessuno dal cuore che mi difenda non ci sarebbe altri di quel buon uomo di fabrizio che in tal caso mi potesse giovare gli prometterò di sposarlo ma prometti prometti si stancherà di credermi sarebbe quasi meglio che io lo sposassi davvero finalmente con un tal matrimonio posso sperar di mettere al coperto il mio interesse e la mia reputazione senza pregiudicare la mia libertà scena quattordicesima il cavaliere di dentro è detta poi fabrizio il cavaliere batte per di dentro alla porta mirandolina s'accosta battono a questa porta chi sarà mai di dentro mirandolina da sé l'amico è qui come sopra mirandolina apritemi aprirli non sono si gonza che comanda signor cavaliere apritemi favorisca andare nella sua camera e mi aspetti che or ora sono da lei perché non volete aprirmi arrivano dei forestieri mi faccio questa grazia vada che or ora sono da lei vado se non venite povera voi parte se non venite povera voi povera me se vi andassi la cosa va sempre peggio rimediamoci se si può è andato via guarda al buco della chiave sì sì è andato mi aspetta in camera ma non vi vado ad un'altra porta ehi fabrizio sarebbe bella che ora fabrizio si vendicasse di me e non volesse oh oh non vi è pericolo ho io certe manierine certe smorfette che bisogna che caschino se fossero di macigno fabrizio avete chiamato venite qui voglio farvi una confidenza son qui sappiate che il cavaliere di ripafratta si è scoperto innamorato di me eh me ne sono accorto sì ve ne siete accorto io in verità non me ne sono mai avveduta povera semplice non ve ne siete accorta non avete veduto quando stiravate col ferro le smorfie che vi faceva la gelosia che aveva di me io che opero senza malizia prendo le cose con indifferenza basta ora mi ha dette certe parole che in verità fabrizio mi hanno fatta arrossire vedete questo vuol dire perché siete una giovane sola senza padre senza madre senza nessuno se foste maritata non andrebbe così orsù capisco che dite bene ho pensato di maritarmi ricordatevi di vostro padre sì me ne ricordo scena quindicesima il cavaliere di dentro e detti il cavaliere batte alla porta dove era prima a fabrizio picchiano forte verso la porta chi è che picchia di dentro apritemi a fabrizio il cavaliere che cosa vuole s'accosta per aprirgli aspettate che io parta di che avete timore caro fabrizio non so ho paura della mia onestà parte non dubitate io vi difenderò di dentro apritemi giuro al cielo che comanda signore che strepiti sono questi in una locanda onorata non si fa così apri questa porta si sente che la sforza cospetto del diavolo non vorrei precipitare uomini chi è di là non c'è nessuno scena sedicesima il marchese ed il conte dalla porta di mezzo e detti sulla porta chi c'è che rumore è questo piano che il cavaliere non senta signori li prego il signor cavaliere di ripafratta vuole sforzare quella porta di dentro aprimi ho la getto a basso al conte che sia diventato pazzo andiamo via a fabrizio apriti lì ho volontà per appunto di parlà con lui aprirò ma le supplico non dubitate siamo qui noi da sé se vedo niente niente me la colgo fabrizio apre ed entra il cavaliere giuro al cielo dov'è chi cercate signore mirandolina dov'è io non lo so da sé scellerata la troverò sincammina e scopre il conte e il marchese al cavaliere con chi l'evete cavaliere noi siamo amici da sé oimè non vorrei per tutto l'oro del mondo che nota fosse questa mia debolezza che cosa vuole signore dalla padrona a te non devo rendere questi conti quando comando voglio esser servito pago i miei denari per questo e giuro al cielo ella avrà che fare con me vossignoria paga i suoi denari per essere servito nelle cose lecite e oneste ma non ha poi da pretendere la mi perdoni che una donna onorata che dici tu che sai tu tu non entri nei fatti miei so io quel che ho ordinato a colei le ha ordinato di venire nella sua camera va via briccone che ti rompo il cranio mi meraviglio di lei a fabrizio zitto andate via vattene via di qui riscaldandosi dico signore via via lo cacciano via da sé corpo di bacco ho proprio voglia di precipitare parte scena diciassettesima il cavaliere il marchese ed il conte da sé indegna farmi aspettar nella camera piano al conte che diamine ha non lo vedete è innamorato di marandolina da sé e si trattiene con fabrizio e parla secco di matrimonio da sé ora è il tempo di vendicarmi signor cavaliere non conviene ridersi della debolezza altrui quando si ha un cuore fragile come il vostro di che intendete voi di parlare so da che provengono le vostre zmanie alterato al marchese intendete voi di che parli amico io non so niente parlo di voi che col protesto di non poter soffrire le donne avete tentato a ripirmi il cuore di marandolina che regia mia conquista alterato verso il marchese io io non parlo voltatevi a me a me rispondete vi vergognate forse d'aver mal proceduto io mi vergogno d'ascoltarvi più oltre senza dirvi che voi mentite a me una mentita da sé la cosa va peggiorando con qual fondamento potete voi dire al marchese irato il conte non sa ciò che si dica ma io non me ne voglio impicciare voi siete un mentitore vado via vuol partire fermatevi lo trattiene per forza e mi renderete conto sì vi renderò conto al marchese datemi la vostra spada eh via acquietatevi tutti e due caro conte ma cosa importa a voi che il cavaliere ami mirandolina io l'amo non è vero mente chi lo dice mente la mentita non viene da me non sono io che lo dico chi dunque io lo dico e lo sostengo e non ho segezioni di voi al marchese datemi quella spada no dico siete ancora voi mio nemico io sono amico di tutti azioni indigne son queste ah giuro al cielo leva la spada al marchese la quale esce col fodero al cavaliere non mi perdete il rispetto se vi chiamate offeso darò soddisfazione anche a voi via siete troppo caldo da sé rammaricandosi mi dispiace io voglio soddisfazione si mette in guardia ve la darò vuol levare il fodero e non può quella spada non vi conosce oh maledetta sforza per cavarlo cavaliere non farete niente non ho più sofferenza eccola cava la spada e vede esser mezza lama che è questo mi avete rotto la spada e il resto dov'è nel fodero non vi è niente sì è vero l'ho rotta nell'ultimo duello non me ne ricordavo al conte lasciatemi provveder d'una spada giuro al cielo non mi fuggerete di mano che fuggire ho cuor di farvi fronte anche con questo pezzo di lama e lama di spagna non ha paura non tanta bravura signor gradasso sì con questa lama s'avventa verso il conte indietro si pone in difesa scena diciottesima mirandolina fabrizio e detti alto alto padroni alto signori miei alto vedendo mirandolina ah maledetta povera me con le spade vedete per causa vostra come per causa mia eccolo lì il signor cavaliere innamorato di voi io innamorato non è vero mentite il signor cavaliere innamorato di me oh no signor conte ella s'inganna posso assicurarla che certamente s'inganna eh che siete voi pur d'accordo sì si vede alterato verso il marchese che si sa che si vede dico che quando è si sa quando non è non si vede al cavaliere il signor cavaliere innamorato di me egli lo nega e negandolo in presenza mia mi mortifica mi avvilisce e mi fa conoscere la sua costanza e la mia debolezza confesso il vero che se riuscito mi fosse d'innamorarlo avrei creduto di fare la maggior prudezza del mondo un uomo che non può vedere le donne che le disprezza che le ha in mal concetto non si può sperare d'innamorarlo signori miei io sono una donna schietta e sincera quando devo dir dico e non posso celar la verità ho tentato d'innamorare il signor cavaliere ma non ho fatto niente da sé non posso parlare a mirandolina lo vedete si confonde non ha coraggio di dir di no al marchese irato voi non sapete quel che vi dite al cavaliere dolcemente e sempre l'avete con me oh il signor cavaliere non si innamora conosce l'arte sa la furberia delle donne alle parole non crede delle lacrime non si fida dagli svenimenti poi se ne ride sono dunque finte le lacrime delle donne sono mendaci gli svenimenti come non lo sa o finge di non saperlo giuro al cielo una tal finzione meriterebbe uno stile nel cuore signor cavaliere non si riscaldi perché questi signori diranno che è innamorato davvero sì lo è non lo può nascondere si vede negli occhi irato al marchese no non lo sono e sempre con me no signore non è innamorato lo dico lo sostengo e sono pronta a provarlo da sé non posso più getta via la mezza spada del marchese conte ad altro tempo mi troverete provveduto di spada ehi la guardia costa denari la prende di terra si fermi signor cavaliere qui ci va della sua reputazione questi signori credono ch'ella si è innamorato bisogna disingannarli non vi è questo bisogno oh sì signore si trattenga un momento da sé che fare intende costei signori il più certo segno d'amore è quello della gelosia e chi non sente la gelosia certamente non ama se il signor cavaliere mi amasse non potrebbe soffrire ch'io fossi d'un altro ma egli lo soffrirà e vedranno di chi volete voi essere di quello a cui mi ha destinato mio padre a mirandolina parlate forse di me sì caro fabrizio a voi in presenza di questi cavalieri vo dar la mano di sposa da sé smaniando oimè con colui non ho cuor di soffrirlo da sé se sposa fabrizio non ama il cavaliere sì sposatevi e vi prometto trecento scudi mirandolina è meglio un uovo oggi che una gallina domani sposatevi ora e vi do subito dodici zecchini grazie signori non ho bisogno di dote sono una povera donna senza grazia senza brio incapace d'innamorar persone di merito ma fabrizio mi vuol bene ed io in questo punto alla presenza loro lo sposo sì maledetta sposati a chi tu vuoi so che tu m'ingannasti so che trionfi dentro di te medesima d'avermi avvilito e vedo sin dove vuoi cimentare la mia tolleranza meriteresti che io pagassi gli inganni tuoi con un pugnale nel seno meriteresti che io ti strappassi il cuore e lo ricassi in mostra alle femmine lusinghiere alle femmine ingannatrici ma ciò sarebbe un doppiamente avvilirmi fuggo dagli occhi tuoi maledico le tue lusinghe le tue lacrime le tue finzioni tu mi hai fatto conoscere quale infausto potere abbia sopra di noi il tuo sesso e mi hai fatto a costo mio imparare che per vincerlo non basta no disprezzarlo ma ci convien fuggirlo scena diciannovesima mirandolina il conte il marchese e fabrizio diga ora di non essere innamorato se mi dà un'altra mentita da cavaliero lo sfido zitti signori zitti è andato via e se non torna e se la cosa passa così posso dire di essere fortunata purtroppo poverino mi è riuscito d'innamorarlo e mi son messa in un brutto rischio non è vossa per altro fabrizio vieni qui caro dammi la mano la mano piano un poco signora vi dilettate d'innamorar la gente in questa maniera e credete ch'io vi voglia sposare e via pazzo è stato uno scherno una bizzarria un puntiglio ero fanciulla non avevo nessuno che mi comandasse quando sarò maritata so io quel che farò che cosa farete scena ultima il servitore del cavaliere e detti signora padrona prima di partire son venuto a riverirvi andate via sì il padrone va alla posta fa attaccare mi aspetta colla roba e ce ne andiamo a livorno compatite se non vi ho fatto non ho tempo da trattenermi vi ringrazio e vi riverisco parte grazie al cielo è partito mi resta qualche rimorso certamente è partito con poco gusto di questi spassi non me ne cavo mai più mirandolina fanciulla o maritate che siate sarò lo stesso per voi fate pure capitale della mia protezione signori miei ora che mi marito non voglio protettori non voglio spasimanti non voglio regali sinora mi sono divertita e ho fatto male e mi sono arrischiata troppo e non lo voglio fare mai più questi è mio marito ma piano signora che piano che cosa c'è che difficoltà ci sono andiamo datemi quella mano vorrei che facessimo prima i nostri patti che patti il patto è questo o dammi la mano o vattene al tuo paese vi darò la mano ma poi ma poi sì caro sarò tutta tua non dubitare di me ti amerò sempre sarai l'anima mia tenete cara non posso più le dà la mano anche questa è fatta mirandolina voi siete una gran donna voi avete l'abilità di condur gli uomini dove volete certamente la vostra maniera obbliga infinitamente s'è vero ch'io possa sperar grazie da lor signori una ne chiedo loro per ultimo dite pure parlate da sè che cosa mai adesso domanderà le supplico per atto di grazia a provvedersi di un'altra locanda da sè brava ora vedo che la mi vuol bene sì vi capisco e vi lodo me ne andrò ma dovunque io sia assicuratevi della mia estima ditemi avete voi perduta una boccettina d'oro sì signora eccola qui l'ho io ritrovata e ve la rendo partirò per compiacervi ma in ogni luoco fate pur capitale della mia protezione queste espressioni mi sarancare nei limiti della convenienza e dell'onestà cambiando stato voglio cambiare costume e lor signori ancora profittino di quanto hanno veduto in vantaggio e sicurezza del loro cuore e quando mai si trovassero in occasioni di dubitare di dover cedere di dover cadere pensino alle malizie imparate e si ricordino della locandiera fine terzo atto fine di la locandiera di carlo goldoni fine di la locandiera di carlo goldoni fine 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 di carlo goldoni